Non sono stati ancora chiariti i motivi che hanno scatenato ieri mattina una sparatoria nel cuore di Napoli, nella zona delle case nuove, dove intorno alle 11 un ventenne è stato ferito da colpi d'arma da fuoco. È accaduto nei pressi della sua abitazione e secondo le prime notizie fornite dalla polizia, il giovane è stato raggiunto al torace da diversi colpi di pistola. Soccorso è stato portato nel vicino ospedale Loreto Mare e sottoposto a intervento chirurgico. Gli investigatori starebbero visionando i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti in zona, con lo scopo di ricostruire l'esatta dinamica del raid e identificare i responsabili. Tra le numerose piste battute dagli inquirenti ci sarebbe quella del regolamento di conti tra clan operanti in una delle aree più a rischio malavitoso della città. La zona teatro dell'Agguato fa parte della seconda municipalità di Napoli. I residenti temono che l'accaduto possa segnare l'inizio di nuovi scontri di camorra sul territorio. Intanto, secondo alcune inscrizioni, sarebbero stati controllati i noti pregiudicati del posto ed effettuate alcune perquisizioni.